Beh a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Qua è Phoenix E oggi ci troviamo in un mini opening pack In cui aprirò tre pacchetti Che ho vinto al draft E comprerò un pacchetto oro Cioè niente di che In poche parole Tanto so già che non troviamo niente Apriamo Do il pacchetto argento premium Non schifo va Eh Così ha Ehi 90 di velocità Niente poco di meno Beh io direi di salvarci solo pochi E gente Solo questo qui Di resto possiamo Tranquillamente Scartare tutto Beh Un po' degredito Ci scendiamo fatti Non No No perché Magari c'è qualcosa di buona attenzione Ah Mangala Non sembra niente male Poi prendiamoci contratti Che li ho finiti tutti Che è questo stile intesa E qualche giocatore E i giocatori Perché Sono messo male io Sì dai Anche se so pochi crediti Uguale Dai Messi porta buono O comunque non era male O comunque non era male Missione Sturaro Mi prendete in giro Sai che ti dico Io Se scarto tutto No Quanto fa Sbagliato Lo fa questo Mi da Solo Vabbè Buttiamo via Sti Cosi Ma Oh Quindicimila Sto cacchio Piamoci il pacchetto Questo Vito Prudente È finito Almeno che Non trovo qualcosa di Salvo solo Que Voglio vedere quanto Mi da Mi Mi prendi in giro Oh Ditemi che mi è stata più in giro Almeno mi sento meglio Diamine Che è sto testa Di qui Cioè raga Io non li faccio più Io ho un impact Satannaffini Così Guarda Quasi qua Si avrò un pacchetto Buffo O bronzo Trovo di meglio Qui cavolo Se il motivo Mi piace fuori Il leaf Bronzo Io rido Vedete Si trova una roba Migliore lì Qui In questi Cazzarola Beh raga Sono un po' Anche arrabbiato Per altri motivi Però Il video di oggi È finito O forse no Perché vedo qualcosa Qui Carrello Questo qui Catalogo Paura Paura ragazzi C'è il pallino rosso In teoria vuol dire Che ci sono cose nuove Utili Forse Bo Caricamento Come minimo Adesso Crash A fifa Ve lo dico Oddio Invece no Slot No Non ci faccio niente Ce l'ho niente Per i crediti Che diamine Questi mi sarebbero Stati utili Contratto giocatore Partite Fu Riscatto oggetto Subito Beh ragazzi Il video di oggi È finito Menu Tutto Perché ragazzi Perché devo ancora Imparare Stati freni Cioè No ma che davvero Io speravo Ti diamo un po' di più Allora Bene Ragazzi Il video di oggi Finisce qui Ma io ancora Non ho visto Qui No Vaiato Io quasi quasi Vorrei vedere Insieme a voi La squadra Della settimana Per vedere Com'è Ah Cioè Io frattuta La roba Che potevo Trovo Fra tutti questi Giocatori Che poi Ho trovato Quello schifo Veramente Ragazzi Al prossimo video Che è meglio Beh Anzi no Dai Vi faccio vedere Come siamo Ridotti male Sì ragazzi Questa è la mia squadra Prego Aspetta un po' Io in teoria Adesso Ci ho la roba Per cambiarmi Smetto Chi Che E' una bestia Che anche se non sembra Corro Che una cosa Impressionante Quella fascia Deve Ah vero Ho aperto Un casino Di pacchetti Undici contratti No Non mi dico Che l'ho Fatto Veramente Ah Beh Ce l'ho Ancora Quello Quello Lì Semmai L'userò Con un Giocatore Beh Ragazzi Il video di oggi E' già la terza volta E lo dico Ma finisce qui Questa volta Per davvero Quindi Al prossimo video E Ciao